La stazione di Sicignano degli Alburni si prepara ad accogliere i primi intercity. Rete Ferrovie Italiane ha accolto la richiesta dell'assessore al turismo della regione Campania Corrado Matera, che evidenziando l'importanza turistica di collegare le aree interne a sud di Salerno con l'ambita metaturistico-culturale della città di Matera, eletta capitale della cultura per il 2019, e con le città di Napoli e Salerno che si preparano ad ospitare le università di 2019, aveva avanzato la proposta di collegare le aree attraverso soste suppletive dell'intercity sulla tratta Roma-Taranto presso la stazione di Sicignano degli Alburni per il periodo dal 1 luglio 2019 al 19 gennaio 2020. Una proposta avanzata anche in virtù di una serie di eventi culturali e artistici in programma nel periodo indicato, destinati ad ampliare le conoscenze dei territori e a promuovere sulle aree interessate uno sviluppo turistico adeguato alle sue potenzialità. In quest'ottica l'assessore Matera già dallo scorso anno ha voluto dare vita ad un progetto che si concretizza in quest'estate 2019, mettendo in rete in un circuito turistico di valorizzazione storica sotto il nome di La Congiura dei Baroni le città principali di Napoli e Matera, passando per le città medievali di Teggiano e Miglionico, rispettivamente con gli storici castelli Macchiaroli e del Malconsiglio, entrambi accomunati dal periodo storico che ha visto appunto la cospirazione contro il re aragonese da parte di alcuni baroni, appunto la Congiura dei Baroni. Eventi che hanno tutte le caratteristiche per suscitare curiosità e quindi attrarre turisti anche nel Vallo di Diano. L'assessore Matera nella sua lettera aveva anche offerto la disponibilità della regione Campania a farsi carico dei successivi collegamenti da e per il Vallo di Diano. Nel pomeriggio di ieri l'atteso annuncio, l'assessore Matera ha infatti comunicato che Rete Ferrovie Italiane aveva accolto la sua richiesta annunciando le prime soste degli Intercity 701 e 702 già a partire dal prossimo 22 giugno. Un risultato che l'assessore al turismo commenta soddisfatto anche perché, se confermata la valenza turistica e culturale del territorio, potrebbe spingere in futuro RFI a programmare nuovi investimenti per potenziare i collegamenti da e per il Vallo di Diano.